Filippe, Schiavon, Borriello, suggerimento di Borriello, Paloschi, Paloschi si libera, il destro di Paloschi, il salvataggio di Barzagli che vale un gol. Il rischio gigantesco della Juventus con Alberto Paloschi che manda fuori i giri con una finta a Alexandro, l'esultanza di Barzagli ma che giocata di Paloschi, che rischio per la Juventus.